Ben ritrovati all'appuntamento con il veterinario, questa sera parliamo di canarini. Con questo termine canarini intendiamo una serie di uccellini appartenenti alla famiglia dei passeriformi. Sono originari delle isole canarie e sono degli ottimi volatori in libertà ma si muovono molto bene anche sul suolo. Sono degli animali granivori, quindi devono avere a disposizione delle miscele di semi ma anche della verdura e della frutta fresca. Anche una spiga di panico appesa nella gabbia li farà particolarmente felici. Ricordatevi di somministrare le verdure accuratamente lavate e asciugate perché se fossero troppo bagnate d'acqua potrebbero causare dei disturbi intestinali. E' utile mettere nella gabbia un paio di volte alla settimana una fettina di tuorlo d'uovo sodo oppure dei graditissimi biscotti all'uovo. Ricordatevi di tenere la gabbia accuratamente pulita e disinfettata periodicamente perché il canarino può andare incontro a varie patologie che possono essere di tipo virale, fungine o batteriche. E la prima regola è proprio quella di prevenire queste malattie con la pulizia. Il canarino si può riprodurre tranquillamente l'anno successivo alla nascita e sicuramente ha bisogno di un ambiente tranquillo dove non venire disturbato e soprattutto lontano da correnti d'aria in modo che l'accoppiamento possa venire nella massima tranquillità e soprattutto il periodo di cova possa venire senza disturbi e senza che la femmina debba abbandonare le uova sentendosi spaventata o disturbata. Bene per questa sera è tutto, vi do appuntamento la settimana prossima con una nuova puntata di Qua la Zappa. Arrivederci!